Si è tenuta ieri mattina una riunione per esaminare le criticità relative alla sicurezza dei pronto soccorso dei presidi ospedalieri della provincia di Salerno. Al tavolo presenti insieme al prefetto Francesco Russo, il questore Giancarlo Conticchio, il direttore generale dell'azienda sanitaria locale di Salerno, Gennaro Sosso, e il direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, Vincenzo D'Amato. La necessità di garantire la sicurezza dei pronto soccorso, dove il personale sanitario è sempre più esposto a episodi di aggressione, violenza verbale e fisica, e all'attenzione anche del Ministero dell'Interno, non solo in provincia di Salerno ma in tutta Italia. Per quanto riguarda la provincia di Salerno emerge, dall'attenta lettura dei dati, che i numeri delle aggressioni ai sanitari non è alla stregua di altre realtà, anche vicine. Nell'ultimo anno, infatti, si sono registrati 13 episodi in tutta la provincia, tra pronto soccorso e altri reparti ispedalieri di aggressioni. Al fine comunque di intensificare una politica di sicurezza volta, innanzitutto, alla prevenzione rispetto a casi di violenza e alla tutela di medici e personale sanitario, il questore ha comunicato che verrà implementato il personale di sicurezza addetto ai presidi ospedalieri del comune capoluogo e di nocere inferiore, mentre nelle realtà di Battipaia, Cava di Terreni e Sarno verrà disposta una intensificazione delle misure di vigilanza H24 tramite gli equipaggi in servizio ordinario di controllo del territorio. Altra importante misura di prevenzione sarà la realizzazione di un contatto telefonico diretto e immediato tra il pronto soccorso della provincia e le sale operative facendo di capo alle forze dell'ordine, quest'ora è 112.